E ciao ragazzuoli, benvenuti e ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick Allora, dobbiamo andare ad arrampicarci là dove Dove possiamo andare poi a vedere Tutto, diciamo, una specie di avamposto, insomma Comunque là, sull'impalcatura Vediamo se riusciremo a fare anche solo mezzo fail in meno di quello che abbiamo fatto l'ultima volta Allora, voglio andare di qua un secondo perché l'altra volta passando in mezzo mi hanno bucato come un gruviera Quindi questa volta vorrei Evitare Stai fermo lì Stai fermo lì Allora, noi proviamo adesso a fare la cosa più noiosa del mondo Ovvero Strisciare fino all'obiettivo Mettendoci così due ore e mezzo per fare circa 16 metri Se questo però serve per non far incacchiare tutta la gente che c'è qui intorno Benvenuto Lo faccio anche due volte Perché francamente, ragazzi Di fail ve ne ho già portati molti Molti ne arriveranno però Diciamo che se ci fermiamo Per questa parte qui non è male E stanco pure lui Pensate un po' noi Tra l'altro pensate se Mi fosse venuta la malsana idea di andare a vedere Di scovare Il Cos'è? Il proposito di rifornimenti Niente di speciale qui Ah, eccolo qui Ottimo Bene Bene, meno male Almeno uno Cioè ho trovato Una cosa facoltativa Ho fatto una Una missione facoltativa Che peraltro Niente di importante qui Quindi pensate un po' Muoviti per cortesia Muoviti Una missione facoltativa Ok Devo aspettare il cesso a fallarte Oh, darmi da fare Abbiamo capito che è qua Questo è scomparsa Oh, ieri No, dai, non ci posso credere. Cioè, ma bisogna davvero che rompano le scatole, eh? Cioè, allucinante. Non vedo una massa tra l'altro. Ah, ma qua è l'hobe. Questo va via. Se ne va via proprio. BAM! Cioè, che spada con uno senso. Bravo, hai alzato la testolina proprio il momento giusto. Ma chi è che mi spara in questa maniera così feroce? Non riesco neanche a vederli. Questo è il punto. Ok. 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 Primo colpo l'ho fallito, ma non in seconda. Ok. Ok. Ok, al collo. Ok. 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 Devrà fare una bella visita all'aleopulista Ragazzi io non li vedo, cioè Sì, vabbè Questo non abbiamo neanche trattenuto il fiato Perché era facile Mi hanno colpito un po' da cani Però vabbè Ma questo qua è È troppo nascosto Gugliamoci Andiamo giù A questo punto perché Andiamo a spostarci Mi sto ok Qu'è? Sì, 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 Sì! Un'altra parte! se continuo così qua finisco davvero tutti i minuti ecco vieni lì bravo non so il primo colpo dove sia andato francamente ma vabbè questo si è permesso di spararmi no 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 è il muretto che ha sparato dov'è dov'è non 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 Un altro che vuole morire Ci deve essere qua sopra il cecchino ma... Speriamo che abbia un po' di munizioni Ma, ma fammi... Qua, qua c'è qualcosa Cioè adesso, ma, cioè, ma tu guardaci Devo andare là in fondo Se aspetto qui posso camuffare i miei spari Ragazzi, no, questo è il principio Io vado a uccidere questo... Ma ce n'è un altro qua, tra l'altro Un altro cecchino Vabbè, adesso posso farlo Ok... Ma voi ditemi, in quale altro canale trovate così tanti fail nei gameplay, eh? Cioè, uno deve seguirmi solo per quello Cioè, uno deve seguirmi solo per vedere come non va giocato un gioco Oh no Cioè, dai, ragazzi, su Non diteli no, eh No, ma chi è adesso? Chi è adesso? Perché adesso compare altra gente? Come mai che scatta così? Ho avuto un momento di panico, paura Osserva gli ufficiari e contrassegna quello giusto Eh Che ne so io di qual è quello giusto Eh, non lo so io, qual è quello giusto Allora Ma io il deposito in Twitter lo dovrei già aver fatto o no? No, vabbè L'altro giorno Nella confusione lì Dove che se non è una voce Il suo sfogo ha tratto sguardi ostili Ora non lo vedo Non lo vedo È stato sferito Ma io tengo la sua vita L'altro giorno L'altro giorno Ma che questo lo facciamo fuori perché ok mentre si stava girando scusate un secondo ragazzi ok ok ma non l'avevo fatto io scusate non capisco cosa devo fare io non ho capito quali devo contrassegnare in base a cosa ragazzi mi sono perso qualcosa sicuro però non ok 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 bisognava semplicemente contrassegnare di tutti e tre io mi stavo facendo un sacco di pippa mentale ok ok non so io mi sparo poi vediamo vabbè ok ho sbagliato bene ok ok è quello a sinistra comunque se adesso non li hanno cambiati è questo ok 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 No! What's up, guys? potrei far fuori gli altri allora intanto vedere forse così che deve essere faccio fuori gli altri e poi aspetto che lui vada a prendere le informazioni faccio fuori gli altri per per non averli in mezzo dopo questo qua è il primo che si stacca no, questo qua lo becco sul naso? no, non ho il naso ok, non si può fare proprio una mazza, perfetto ok ragazzoli, vabbè io direi che può bastare per questa puntata abbiamo fatto la nostra dose la nostra bella dose di fail anche questa volta la mia bella dose di fail anche questa volta quindi sono contento spero che vi siate fatti qualche risata fra i denti vista la mia incompetenza vi ricordo di lasciare un commento per dimmi la vostra mi piace o non mi piace per farmi sapere se avete gradito l'episodio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzoli